Buongiorno a tutti, oramai direi che è passato qualche minuto alle nove, possiamo iniziare con questo nuovo Joe Break, il primo del 2024, diamo il benvenuto appunto a Cristiano Nattero, business developer di WASD, che ci introdurrà un po' nel suo mondo, diciamo, relativo alle immagini satellitari e niente, lascio la parola, visto che gli argomenti sono tanti da trattare, diciamo il Joe Break di oggi avrà uno scopo un po' più divulgativo, così iniziamo un po' a insomma a conoscere l'argomento, a vedere di cosa si tratta e ovviamente poi ci sarà spazio per domande, interventi eventuali, siamo chiaramente aperti a tutto questo e ben contenti. Bene, lascio la parola a Cristiano. Grazie Francesca, buongiorno a tutti. Allora io sono qui per condividere la mia avventura nel mondo dei servizi cloud per lavorare con immagini satellitari e ho alcune slide, un po' di materiale da condividere. Prima di iniziare mi piacerebbe che provassimo a rendere questa presentazione interattiva, io condividerò lo schermo fra poco, non vi vedo, per piacere fate domande Francesca, conto sul tuo aiuto per... Assolutamente sì. Ok, leggere domande. Comincio io con una domanda in realtà. Qualcuno dei partecipanti ha idea di che cosa sia l'osservazione della Terra? Prendo per un no. Ok. Telerilevamento, osservazione della Terra. Questa attività con cui acquisiamo dati della Terra e lo possiamo fare con sensori di vario tipo montati su vari dispositivi. Possono essere montati su aerei, su palloni aerostatici, su droni, oppure, ed è il caso su cui noi lavoriamo per la maggior parte del tempo, possono essere montati su satelliti che stanno in orbita e quindi ci consentono di acquisire immagini della Terra con una certa continuità. C'è un mondo qua, no? Ci sono sensori che sono sostanzialmente dei telescopi, delle fotocamere molto evolute che guardano la Terra e la vedono magari nello spettro del visibile, ma la vedono anche nell'infrarosso. questi tipi di sensori si chiamano ottici, sono molto belli, se ci sono le nuvole non permettono di vedere il suolo. E l'altro grosso tipo di sensori che abbiamo sono quelli attivi, cioè quelli che non si limitano a ricevere un segnale, ma emettono un segnale, questo viene riflesso sulla Terra e poi torna indietro. E quelli più importanti nel nostro contesto sono i radar. Si chiamano SAR, che sta per Synthetic Aperture Radar, radar ad apertura sintetica. Di fatto sono dei radar. E la cosa bella, a seconda delle bande che poi utilizzano, è che vedono attraverso le nuvole. Non vedono i colori, vedono la ruvidità del terreno, ma ci permettono di costruire su questi un sacco di applicazioni. Fine dell'introduzione all'osservazione della Terra, a meno che non ci siano domande. Vi racconto qualcosa di WASD, che è... Andiamo a scondividere lo schermo... Questo. No, condivido tutto. Eh... Ok. Cos'è WASD? WASD è un insieme di tecnologie che ci aiutano a lavorare con i dati di osservazione della Terra. Si presenta come un sito web, ma può essere utilizzato anche in altri modi che vi racconto fra poco. Ma di fatto facilita la vita a chi sviluppa algoritmi, modelli per estrarre valore dalle immagini satellitari e a chi questi... queste applicazioni le vuole utilizzare. Quindi è una tecnologia abilitante. Qui c'è una descrizione che vi lascio, ma perché abbiamo fatto WASD? Beh, il modo in cui si lavorava precedentemente consisteva nello scaricare da server dove venivano immagazzinati i dati di osservazione della Terra, scaricare questi dati su un computer locale, per cui servivano alcune risorse, e poi magari caricare i risultati dell'elaborazione. E questo richiede banda in download, storage, capacità computazionale, banda in upload e capite che è una... sono risorse queste che bisogna impegnare ed è costoso. E non sono necessariamente degli investimenti che rendono, potrebbero essere di fatto delle sorgenti di debiti. E quindi questo modello non è sostenibile. e le principali agenzie spaziali, no? L'agenzia spaziale europea è sicuramente all'avanguardia, ma anche la NASA, la JAXA, adesso l'agenzia spaziale indiana, stanno dicendo no, c'è bisogna cambiare paradigma. Anziché scaricare i dati e processarli, facciamo il contrario, facciamo l'upload del codice che sarà processare questi dati. E che è molto più piccolo, si fa molto prima, è molto più efficiente. E quindi abbiamo assistito alla nascita di infrastrutture dedicate, dei cloud dedicati, dove troviamo sia la capacità computazionale sia la prossimità ai dati. Ed è una potenzialità molto interessante. Il problema è che gli esperti di analisi di immagini della Terra dallo spazio lavorano ad un altro livello, questo qua in alto. Loro sanno fare bene gli algoritmi, non sanno necessariamente colmare questo divario che c'è in mezzo, che è pieno di cose esoteriche e misteriose che si possono imparare. Ovviamente io sono uno sviluppatore software e successivamente, negli anni poi mi sono avvicinato all'osservazione della Terra. Si possono imparare. Ma per imparare queste tecnologie bisogna anche tenersi aggiornati. Ci vuole tempo e ci vuole denaro. E non è detto che investire tempo e denaro per i professionisti dell'osservazione della Terra, per le aziende che lavorano in questo settore, per i centri di ricerca, non è detto che investirlo in questo strato intermedio, in questa giungla di tecnologie sia una buona cosa, forse è più opportuno investirlo qua. Allora per questo scopo, siccome non è detto che abbiamo tempo da perdere, abbiamo costruito UASD. Perché non abbiamo tempo da perdere? Ci sono secondo me due motivazioni principali. Una è quella del time to market. Se vogliamo sviluppare delle tecnologie che abbiano un impatto, che usino dati satellitari, spesso dobbiamo farlo presto, perché è un paesaggio in rapidissima evoluzione e quindi l'azienda che arriva prima di fatto acquisisce un vantaggio sulle altre. Vale anche nella ricerca questo. Molto spesso i ricercatori hanno delle idee brillanti, ma poi non riescono a realizzarle in tempo. Io ho un passato nell'università e spesso ero molto frustrato dalla quantità di tempo che dovevo impiegare per preparare tutto il contorno tecnologico per poter poi fare i miei esperimenti. Sarebbe stato bellissimo se all'epoca avesse avuto una tecnologia pronta che mi avesse permesso di lavorare direttamente alle parti innovative. L'altro motivo per cui non è opportuno perdere tempo è che queste tecnologie per l'osservazione della Terra sono utilissime rispetto ai disastri, inondazioni, incendi, terremoti, frane. E purtroppo con i cambiamenti climatici questi fenomeni stanno diventando molto più intensi e molto più frequenti e quindi c'è bisogno di intervenire subito e quindi anche lì bisogna riuscire a sviluppare più rapidamente servizi che possano essere utili. E noi abbiamo un po' di esperienza, poi ve la racconto. Quindi per risolvere questo problema abbiamo costruito WASD. Qui mi sono accertato di farlo bello spesso così vi convinco che è importante. C'è una mano alzata, magari do concedo di parlare a Rocco, potrebbe poter parlare. Rocco sono tutte orecchie? Si si sta caricando. Mi sentite? Si buongiorno. Si buongiorno. Con questo software che lei ha praticamente sviluppato è possibile scaricare il modello digitale del terreno o il digital surface model? Si. E a quanti metri? Allora adesso volevo raccontarlo fra qualche slide. Ah ok. Non questo specifico del modello di elevazione digitale del terreno ma in generale dei dati a cui abbiamo accesso in WASD. Però sì, WASD è collegato a diversi fornitori di dati. Facciamo una cosa. Via. Facciamo la dinamica. Vi faccio vedere WASD. No, non mi interessa questo nome. Questo è WASD. Il sito è WASD.net. Ve lo posso mettere nella chat magari. Sento una musica. Allora, questo è il sito dell'applicazione, questo è il sito dell'azienda. Vi faccio vedere direttamente l'applicazione, faccio login. Quando uno entra in WASD trova un marketplace di applicazioni già pubblicate. Magari ve ne faccio vedere una fra poco. Ci sono varie sezioni, quella dei workspace sono di fatto delle cartelle, potete pensarle, per i progetti. Ma la sezione che volevo farvi vedere è quella di ricerca. E WASD è collegato a diversi data provider. Cioè, prende i dati da tanti fornitori. E ne continuiamo ad aggiungere per servire l'esigenza dei nostri clienti. E siamo collegati ad alcuni fornitori che forniscono i DEM Copernicus a 30 o a 90 metri. Ci sono DEM più accurati? Sì, con copertura globale? Non che io sappia. Possiamo aggiungerli? Sì, se c'è l'esigenza, sì. La maggior parte dei dati a cui WASD ha accesso sono dati gratuiti, ma siamo collegati anche a fornitori commerciali, per esempio Planet. E fra poco saremo collegati anche a un altro che si chiama Skywatch, che è un marketplace di immagini commerciali. Molto più conveniente di Planet, tra l'altro. Pur rivendendo dati Planet. Va bene, poi magari se c'è qualche altra curiosità posso rispondere nel merito. Rocco? Sì, mi sente? Sì. Ma non c'è il modello digitale della superficie qui? Cioè, il DSM? Il DSM non ce l'abbiamo. Ah, ok, perfetto. Però possiamo collegare, la cosa da fare sarebbe sentiamoci, se c'è un'esigenza possiamo collegare WASD a fornitori di DSM o di altri tipi di dati. Ok, grazie mille per l'informazione. Grazie per la domanda. Io riprenderò la presentazione. Vi stavo raccontando che WASD è una piattaforma, è uno strato intermedio fra quello dell'infrastruttura, il cloud, e quello delle applicazioni. Qui dentro ci sono gli algoritmi incapsulati in un software che può essere utilizzato per fornire servizi. Per esempio, mappare le aree inondate. Come funziona questa cosa? Abbiamo scoperto che gli esperti di osservazione della Terra hanno ciascuno le proprie preferenze. Gli editor da usare, i debugger, i visualizzatori, le librerie, le tecnologie, i tool e i linguaggi di programmazione. E allora abbiamo sì le API REST, ma soprattutto abbiamo deciso di mettere a disposizione delle librerie di programmazione in diversi linguaggi in maniera da consentire a ciascuno di lavorare con le tecnologie che conosce nel modo che conosce. E essere in grado di sviluppare sulla propria macchina, il codice che implementa l'algoritmo che hanno in testa, provarlo, e poi quando sono soddisfatti fare il deploy su WASD con un drag and drop. E questo modello noi lo chiamiamo develop at home deploy to the cloud. Poi abbiamo anche lo sviluppo diretto nel cloud con Jupyter Notebook, che magari vi posso mostrare dopo. Però di fatto supportiamo diversi linguaggi e tecnologie. E non soltanto linguaggi di programmazione, per esempio supportiamo anche i workflow di Snap, che è un tool desktop con cui si possono fare molti tipi di elaborazioni, ma le limitazioni di girare sul desktop. Con WASD lo portiamo sul cloud. Una cosa utile è che da WASD è possibile, utilizzando WASD è possibile scrivere un'applicazione, per esempio in Python, che chiami un'altra applicazione, magari scritta in C Sharp, che magari scarica delle immagini e magari le processa con dei workflow di Snap e poi il risultato lo passa ancora, per esempio, all'applicazione chiamante, che era quella in Python. Poi questa magari chiama un'applicazione scritta in IDL, che fa un processamento specifico, magari utilizzando Envy, e poi ritorna risultati e infine magari ci si aggiunge ancora una parte innovativa. Quindi le applicazioni di WASD, non vorrei farla troppo tecnologica, troppo ostica. Di fatto è possibile scrivere applicazioni con tanti linguaggi e farli interoperare facilmente fra loro, per cui ogni singola applicazione diventa un blocchetto per costruire un servizio più complesso. E poi abbiamo lavorato tanto per rendere WASD interoperabile con servizi esterni, ma questa parte ve la risparmi perché c'è una giungla di standard e ne supportiamo circa 90, direi. Se non ci sono domande, che comunque potete farmi in ogni momento, o anche alla fine, o anche dopo, poi vi lascio i recapiti, volevo condividere qualche esperienza interessante che abbiamo fatto. Come vi dicevo, ci sono le applicazioni nel marketplace. Abbiamo diverse applicazioni per la mappatura delle aree inondate. Le inondazioni stanno diventando, cioè solo un problema grosso, stanno diventando un problema enorme e sempre più importante, come vi dicevo, per via dei cambiamenti climatici. E noi abbiamo questa partnership con il Luxemburg Institute of Science and Technology, che ha questa metodologia che si chiama HASARD, brevettata, per trovare le aree inondate con dati radar. Come vi dicevo, i dati radar sono interessanti perché riescono a vedere attraverso le nuvole. E quindi, se c'è un'inondazione, probabilmente è perché è piovuto molto, se è piovuto molto ci sono le nuvole, se ci sono le nuvole non vediamo il terreno. Invece con i dati SAR lo riusciamo a vedere. E questa la stiamo utilizzando con successo da diversi anni. Poi abbiamo una collaborazione con la Fondazione Cima, che ci ha fornito altri algoritmi per la mappatura delle aree inondate, sia con dati SAR, sia con dati ottici. Ora, i dati ottici, come vi dicevo, sono poco efficaci per mappare le inondazioni, perché spesso abbiamo le nuvole. Ma a volte le nuvole vengono spazzate via, quindi riusciamo a vedere qualcosa. E siccome i satelliti hanno un'orbita, hanno un tempo di rivisita, perlomeno la maggior parte di quelli che usiamo per queste applicazioni, non riusciamo a vedere il terreno tutti i giorni. Utilizzare tipi di satelliti diversi, satelliti diversi ci permette di avere più rivisite e quindi di poter monitorare nel tempo l'evoluzione. E poi abbiamo delle metodologie basate su machine learning che sfruttano prevalentemente i dati ottici. Qui l'idea che hanno avuto i nostri partner di un'azienda lussemburghese che si chiama RSS Hydro è che a volte, anche se ci sono tante nuvole, qualche sprazzo, qualche buco tra le nuvole c'è. Utilizzando quello che riusciamo a vedere in questi buchi fra le nuvole e un modello di elevazione del terreno, possiamo provare a predire l'estensione dell'inondazione. E queste metodologie in realtà in particolare hazard, ma anche quelle basate su dati ottici, li usiamo in vari progetti. I nostri amici dell'Axmoor Institute of Science and Technology sono in grado di mappare le inondazioni anche in aree urbane, usando dati SAR Sentinel-1. E questa è un'applicazione molto avanzata che hanno inventato loro, sono decisamente dei luminari nel ramo. E l'abbiamo portata su WASDE anche questa. Per cosa usiamo queste applicazioni per la mappatura delle inondazioni? Intanto per supportare un modello di assicurazione parametrico dei rischi finanziari che i paesi, diversi paesi del sud-est asiatico, hanno rispetto alle inondazioni. E lo facciamo proprio realizzando i servizi operativi che sono stati sviluppati in diversi progetti, in particolare uno finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea e poi un altro promosso dalla Banca Mondiale. Qui cosa succede? Tutti i giorni automaticamente queste applicazioni cercano i dati sia SAR sia ottici nelle aree di interesse, li utilizzano per costruire delle mappe e queste mappe vengono utilizzate per capire qual è stato l'impatto sulla popolazione. E quindi la parte innovativa di questo servizio è che offriamo sia alle assicurazioni sia ai paesi dei dati trasparenti ottenuti allo stato dell'arte e il più aggiornati possibile su quanto veramente è stato l'impatto di inondazione. Per cui non c'è negoziazione a quel punto, la negoziazione avviene prima, ma quando c'è l'alluvione e l'inondazione il danno viene osservato. Il paese è un po' meno in una situazione di debolezza. Poi ovviamente le assicurazioni non ci rimettono, però è trasparente questo. La stessa tecnologia può essere utilizzata on demand, mentre nel caso dell'assicurazione gira automaticamente tutti i giorni, è un servizio di monitoraggio. Qui invece vedete un esempio in cui è stato utilizzato on demand, questo era per il monitoraggio di un tifone tropicale nelle Filippine. Abbiamo avuto altre esperienze in cui il World Food Programme e la FAO hanno utilizzato UASDI. E poi il caso più eclatante di mappatura on demand è stato in occasione delle inondazioni in Pakistan nel 2022. E qui è successo che la Banca di Sviluppo Asiatico, che stava aiutando il paese a capire quanto fosse l'entità dei danni, ha chiesto ai nostri partner, la Fondazione Cima e il List di fare sia la mappatura delle aree inondate, anzi il monitoraggio, perché loro erano interessati a capire cosa era successo nel tempo, sia capire quale fosse l'impatto di queste inondazioni. Ora, a sinistra vedete una mappa sinottica dove si vede tutta l'estensione e il Pakistan è gigantesco, qui abbiamo processato decine e decine di terabyte di dati e invece qui in questa mappa vedete un particolare di un'area e i colori diversi rappresentano il livello delle acque in giorni diversi. Quando possiamo fare osservazioni multiple, la cosa bella è che possiamo vedere l'evoluzione di un fenomeno, quindi l'inondazione che arriva, che cresce, si stabilizza e poi piano piano si dissipa. La cosa che è successa in Pakistan nel 2022, stavo dicendo l'anno scorso, ormai sono due anni fa, è che c'è stata questa combinazione catastrofica, da un lato di scioglimento di ghiacciai nell'Himalaya e dall'altro di piogge monsoniche eccezionali. Sarebbe molto da poter dire qui, però sostanzialmente oltre all'estensione dell'inondazione che è osservabile da satellite, con un modello di elevazione digitale del terreno è anche possibile stimare la profondità dell'inondazione ed è chiaro che se la profondità è di pochi millimetri o di alcuni metri c'è una grande differenza sul danno che queste inondazioni causano e queste considerazioni sono state utilizzate in una metodologia della fondazione CIMA che si chiama Razor per stimare i danni, i danni alle infrastrutture, quindi alle scuole, alle strade, ai campi. Io ingenuamente pensavo che se l'alluvione avviene nei campi non è molto grave, invece no è tremenda perché distrugge la capacità del paese di produrre cibo ed è un problemaccio. E questi dati che noi abbiamo prodotto la banca di sviluppo asiatico poi li ha condivisi con la banca mondiale e con le agenzie delle Nazioni Unite, per cui alcuni di noi sono trovati in queste riunioni con un sacco di persone di queste grosse istituzioni che volevano sapere appunto quanto grande era il danno, quanto grave fosse la situazione. Capite che ce ne sono di aziende che offrono servizi satellitari. Hanno scelto noi perché avevamo lavorato molto bene in passato, in particolare in quel progetto di mappatura, di monitoraggio nel sud-est asiatico per le assicurazioni parametriche. Ovviamente siete liberi di fare domande, ma intanto vi racconto così vi faccio notare che abbiamo, grazie a WASD, allora WASD ha abilitato la creazione di applicazioni nel cloud basata su dati EO. Queste applicazioni a loro volta hanno dato dei benefici. Vediamo un attimo, Hazard, la metodologia del list per mappare le aree inondate, richiedeva giorni per essere eseguita per fare una mappa. È chiaro che la durata dipende dall'estensione dell'area e dalla qualità dei dati, ma l'ordine di grandezza era questo. Perché giorni? Perché era un processo estremamente interattivo. Le persone dovevano intervenire, scaricare i dati, prepararli, combinarli, finalmente potevano eseguire sopra l'algoritmo, poi magari dovevano fare ancora qualche raffinamento e poi dovevano pubblicarlo. Una roba faticosissima. Adesso è tutto automatico, ci vogliono ore. E invece per Razor, la metodologia per stimare l'impatto sulle infrastrutture, in questo progetto qua, per il Pakistan, hanno lavorato quattro persone a tempo pieno per una settimana. In realtà c'era anche una quinta persona che ogni tanto dava una mano, hanno lavorato anche degli straordinari perché è stato un momento molto frenetico, la banca di sviluppo asiatico aveva molta fretta. Però una settimana, un processo interattivo, adesso non la stiamo automatizzando e ci vorranno 30 minuti e sarà completamente automatico. Quindi da una settimana a quattro persone a mezz'ora, probabilmente meno, ma diciamo mezz'ora per stare tranquilli. E io non lo so se riesco a comunicare l'importanza di questa accelerazione. Perché significa che anziché poter fornire supporto soltanto giorni e giorni e giorni dopo l'evento e quindi essere utili di fatto soltanto nella fase di assessment dei danni, se noi riduciamo il tempo necessario a produrre le informazioni su cui le varie entità coinvolte possono agire, noi ci avviciniamo alla fase invece di risposta all'emergenza, supportiamo la risposta e quindi siamo utili alle agenzie delle Nazioni Unite, ai governi, alle amministrazioni locali, alle ONG, in particolare per esempio adesso abbiamo una collaborazione con la Croce Rossa per studiare questo tipo di applicazione. C'è molto potenziale. La cosa che mi piace, sono particolarmente fiero del nostro lavoro, è che sbloccando queste possibilità, quindi WASD sblocca le applicazioni nelle cloud, le applicazioni nelle cloud sbloccano altre applicazioni nelle cloud, Hazard di fatto rende possibile Razor. C'è tutta una catena per cui alla fine permettiamo ad alcuni servizi di funzionare e di fatto alla fine abbiamo un impatto importante su tantissime persone. In Pakistan le persone colpite dalle inondazioni erano circa 30 milioni. Non tutti i giorni nella mia vita professionale mi è successo di toccare così tante persone. Poi io credo che noi siamo bravi, ci impegniamo, però secondo me è importante riconoscere che queste nuove tecnologie, quindi sia l'osservazione della terra sia il cloud, hanno un potenziale enorme di migliorare la vita di noi tutti. Altri lavori che abbiamo fatto interessanti, questa è un'attività di mappatura automatica delle aree urbane, abbiamo partecipato a una gara internazionale con un partner genovese che si chiama iSign e l'abbiamo vinta e c'erano due fasi, una in cui dovevamo mappare le aree urbane su dati SAR, questa è Bagdad. E un'altra in cui avevamo immagini ottiche ad altissima risoluzione e il compito era di trovare i singoli edifici. E qui vedete alcuni esempi di pari algoritmi che abbiamo utilizzato. E abbiamo un'attività che si chiama CityWatch in Lussemburgo in cui forniamo un servizio di monitoraggio delle aree urbane con due livelli. Un livello baseline in cui sostanzialmente riusciamo a trovare le aree urbane con dati pubblici, Sentinel 1 e Sentinel 2, e una soluzione premium, più costosa, in cui utilizziamo immagini commerciali da diversi fornitori. Curiosità, qui c'è uno che si chiama SpaceT, che è un'azienda cinese e non possiamo più collaborare con loro perché pare che abbiano venduto dati SAR al gruppo Wagner per individuare dei bersagli militari in Ucraina. la collaborazione che stavamo costruendo è stata interrotta. Poi altre cose importanti, nel 2020 c'erano quei terribili incendi in Ucraina che sono arrivati vicino alla centrale di Chernobyl e l'Ucraina che non è membro dell'Agenzia Spaziale Europea, chiesto aiuto all'Agenzia Spaziale Europea per monitorare l'evoluzione di questi incendi e WASDI è stato, con la collaborazione della Fondazione Cima, l'unico ente commerciale che ha fornito supporto. Gli altri che hanno collaborato erano l'ESA e i servizi Copernicus. In particolare abbiamo messo su WASDI un algoritmo di mappatura delle aree bruciate sviluppato dalla Fondazione Cima. Poi un altro tema su cui abbiamo lavorato è l'inquinamento e abbiamo iniziato con una gara di intelligenza artificiale applicata all'osservazione della Terra per fare il downscaling, cioè aumentare la risoluzione dei dati satellitari su alcuni inquinanti dell'aria. La cosa bella dei dati satellitari è che acquisiscono tutta la Terra, però hanno una risoluzione bassa. L'altro estremo dello spettro invece sono le stazioni a Terra, dove abbiamo la massima risoluzione possibile, però sono sparse, ne abbiamo una qui, una là, in tanti posti non ce ne sono. Allora il scopo di questa gara era all'unire il meglio dei due mondi e in particolare la richiesta era di produrre un modello di intelligenza artificiale che prendesse in input le immagini satellitari a bassa risoluzione e altri dati ancillari, per esempio informazioni sui venti, sull'umidità relativa, erano queste quelle più rilevanti, e che in output fornisse la predizione dell'inquinamento ad alta risoluzione. Quindi questo lavoro qua, da un dato pixelato a un dato più fine. E questa gara di nuovo l'abbiamo vinta, sempre con il nostro partner Assign. e ovviamente eravamo molto fieri, molto contenti, e cosa abbiamo fatto? L'unica cosa possibile che potessimo fare in questa occasione, cioè partecipare a un'altra gara. Questa era bandita dalla NASA, non l'abbiamo vinta, siamo arrivati quinti, però su più di 700 team internazionali, quindi direi un risultato dignitoso, di tutto rispetto. Un paio di curiosità che volevo condividere, una è che siamo gli unici che hanno utilizzato reti neurali e gli altri hanno utilizzato tutti i modelli di machine learning classici, quindi c'è spazio per l'innovazione qua. La seconda notizia è che vedete che a un certo punto la prestazione qua si è appiattita. Beh, ci siamo accorti dopo, perché quando partecipiamo a queste gare è sempre molto frenetico, no? È un lavoro in più, un task in più che aggiungiamo al nostro lavoro, che di solito è già tanto. Per cui tendiamo a provare idee velocemente, ci siamo accorti che avevamo introdotto un bacchetto, un errore, ma ce ne siamo accorti soltanto dopo. E allora uno di questi giorni quando troveremo il coraggio vedremo cosa sarebbe successo se non avessimo introdotto quel bacco, però il fatto è che tutto sommato non era così male come soluzione. E c'è una fase di validazione scientifica in corso, in cui prima di portare questa applicazione in produzione e offrirla al pubblico, ci stiamo chiedendo non tanto se la misura che esce fuori è affidabile, perché questo l'abbiamo già provato, perlomeno questo è abbastanza facile, ma più che altro ci stiamo chiedendo stiamo affrontando un problema significativo? e c'è una riflessione aperta con alcuni partner scientifici. Infine volevo raccontarvi di questa iniziativa, di questo progetto a cui abbiamo partecipato, SINBAD, per la predizione delle fioriture algali. Ci sono alcune alghe tropicali nel Mediterraneo che in alcune condizioni fioriscono e producono delle tossine, è il motivo per cui in passato qualche volta abbiamo visto che la balneazione era vietata. Di fatto i servizi Copernicus Marine offrono la previsione di queste fioriture, però è una previsione a bassa risoluzione. E allora abbiamo fatto lo stesso lavoro che vi ho raccontato per i dati dell'inquinamento atmosferico, cioè abbiamo fatto l'aumento della risoluzione o il downscaling. Basta, mi fermo qua per ora. Vorrei qualche domanda, altrimenti magari vi faccio vedere qualcosa live. Ok Rocco, a breve puoi fare la tua domanda. Ok, dovrebbe essere possibile. Mi sentite? Sì. Allora, prima ho visto praticamente la Core Inland Cover. È possibile scaricare una porzione di terreno che a me serve? Con i dati, ovviamente riclassificandoli sul GIS, della Core Inland Cover aggiornata per dire del 2021-2022, perché in rete ci sono solo massimo 2018. Allora, in realtà io non so sicuro che abbiamo la Core Inland Cover, sei sicuro di averla vista su WASD? Cioè, so che cos'è? Sì. Abbiamo il World Cover. Ah, ok. Ah beh, non è la stessa cosa? No. Isabel Cover è fatto da... È fatto per ESA da Vito, ed è a 10 metri di risoluzione spaziale, e ce ne sono due. C'è quello del 2020 e credo che abbiano fatto quello del 2021 o 22, non mi ricordo, uno dei due. Core Inland Cover invece lo hanno fatto più di frequente, a risoluzione più bassa, e le classi non sono esattamente le stesse. Di nuovo, l'invito è, parliamone, perché a noi proprio interessa come politica aziendale aggiungere fornitori, ma c'è un'offerta straordinaria, no? Sia di fornitori del dato, sia di marketplace che aggregano dati da altri fornitori e poi li rioffrono. E quindi dobbiamo dare delle priorità. Quindi sono positivo che possiamo aggiungerlo. Come si fa a scaricare un dato da WASD? Dai, vediamo questa cosa. Può essere utile? Sì. Ok, allora. Cristiano, scusa. Sì. Mi senti? Sono Roberta, ciao. Posso farti una domanda, io magari l'hai detto, ma mi sono persa. Di Iperspettrale c'è già qualcosa a disposizione su WASD? No, mi piacerebbe portare Prisma, però purtroppo Prisma, accedere ai dati Prisma in maniera programmatica non è così banale. Cosa banale. So che l'agenzia spaziale italiana ha emesso un bando che si chiamava MEDS, come pazzi, per costruire di fatto il Dias italiano. Cioè un grado dedicato e citavano alcuni possibili dati da mettere lì. E fra questi c'erano Prisma, Cosmos SkyMed e altri. Poi adesso con Iride, le nuove costellazioni che ASI metterà in orbita, secondo me questa esigenza diventerà ancora più forte. Quindi, e di fatto c'è il progetto finanziato di costruire un marketplace dove ci sono sia le applicazioni sia i dati. E quindi sarà possibile farlo. Al momento non ce l'abbiamo. Ok. Vale per te Roberta, lo stesso invito che ho fatto a Rocco, cioè sentiamoci. Sì sì, volentierissimo. Sì, noi in realtà appunto poi non ne avevamo più parlato, c'era anche sempre la questione dell'algoritmo per le nuove. Esatto, sì, non so se poi l'avete gestita. No, non ne abbiamo più parlato, ma mi farebbe piacere riprenderlo. Dai, perché no, mi farebbe piacere anche a me perché poi appunto finito il dottorato è finito anche quello, cioè non ho più avuto modo. Passate le feste. Esatto, sì. Ok, grazie mille. Grazie a te. Allora, ci sono su ASD vari tipi di dati, senti nel 1, 2, 3, senti nel 5P, dati legacy, proba via, envisat, landsat 8, stiamo aggiungendo le altre missioni landsat, cioè quella più recente, la 9 e le precedenti, 5 e 7. Da NOA abbiamo le mappe di inondazione globali costruite con dati VIRS, i dati ERA 5 sull'atmosfera, altri dati Copernicus, Atmosphere Monitoring Service, dati Planet. Vi devo dire che dati Planet tecnologicamente funzionano, nessuno dei nostri clienti ha mai avuto un business case che giustificasse l'acquisto di questi dati. Abbiamo fatto qualche progetto con dati commerciali, li abbiamo comprati da Skywatch, abbiamo comprato dati Planet e da Skywatch costano meno che direttamente da Planet. Come sia possibile questo, non l'ho ancora capito, però se qualcuno avesse bisogno, e stiamo integrando Skywatch in WASD. DEM di Copernicus, il word cover di ESA, layer statici che mettiamo su WASD, il Global Human Settlement Layer del JRC, dati MERG sulle precipitazioni, Copernicus Marine, qui c'è un mondo, i dati EcoStress, EcoStress è un sensore termico che si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale, e ci sono i dati di temperatura al suolo e i dati di evapotraspirazione. E siamo in un bel progetto, sempre guidato dall'IST, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, che si chiama European EcoStress Hub Fase 2, e di fatto la NASA aveva bloccato l'erogazione dei dati e li sta ridistribuendo, ricominciando a distribuire, perché c'erano alcuni problemini che stanno risolvendo. Però la cosa interessante di questo progetto è che oltre a rendere disponibili questi dati, no, temperatura e evapotraspirazione, hanno un modello per stimare lo stress idrico delle piante. E questa è una roba che è un argomento di ricerca molto caldo, e ci sono tantissimi modelli che funzionano a livello locale. E questi qua, del progetto European EcoStress Hub, hanno un modello che funziona a livello globale, con qualità, mi dicono, confrontabile con quella dei modelli locali. Abbiamo dati MODIS, EarthCache, questo qui è Skywatch, però per ora da Skywatch abbiamo soltanto accesso ai dati pubblici. Facciamo un esempio, uno per l'altro, supponiamo di voler prendere dati Sentinel-1 GRD, selezioniamo un'area di interesse, qui mi sono messo su Parigi, e decidiamo un intervallo temporale, volendo possiamo dirgli, prendimi tutte le stati di questi anni qua, ok? Per esempio. Possiamo costruire delle query complesse. Tra l'altro tutto quello che vi sto facendo vedere qui, sul sito web, si può fare in maniera programmatica, da codice. Eventualmente, Francesca, possiamo fare una sessione hands-on più avanti. Sì, è certamente, certo. Clicchiamo e troviamo i risultati. Ce ne sono tantissimi perché abbiamo scelto tanti mesi. Ne importo uno a caso. Mi apre la lista dei workspace ed è già selezionato il workspace che aveva aperto prima, che era un workspace che avevo creato per un webinar per il NOR. E così lo posso importare. Mentre lui lo importa, posso chiudere sta fare qua? Sì. Ok. Mentre lui lo importa, io posso andare nel workspace e vedere l'operazione in corso. Vedete? Fra poco partirà. Ok, ci siamo. Intanto che lui scarica, vi racconto questa cosa. Se volete provare WASD, andate su WASD.net, vi registrate e lo potete provare gratuitamente. C'è qualche limitazione, ma non tante. In futuro ne metteremo di più. Per adesso cerchiamo di tenerlo abbastanza libero. Se fate qualche piccolo esperimento, ottimo. Se fate partire un processamento che dura ore e accumula giga e giga di roba, magari ve lo fermiamo, vi mandiamo una mail, vi diciamo. Se vuoi usarlo così, bisogna che ci aiuti a coprire i costi. Come? Non di tasca vostra, ma c'è una bellissima iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiama NOR, che sta per Network of Resources, e vi metto il link qui nella chat. E sul sito del NOR trovate servizi da diversi fornitori registrati. e se andate qua su ISA Sponsorship e poi andate in fondo NOR Portfolio arrivate al sito dove potete sceglierlo. Qua scrivete WASD e trovate i nostri servizi che abbiamo messo sul NOR. Quindi, accesso alle collezioni, ma questo ve l'ho fatto vedere. Algo Hosting Services Qui vi racconta tutto. Come si fa a fare richiesta? Si va qua. Pricing Wizard Ovviamente vi aiutiamo, se ci chiamate. Voglio fare un progetto commerciale, di ricerco, pre-commerciale. E potete chiedere la vostra, potete chiedere ciò di cui avete bisogno. Consiglio è di chiedere un nodo commerciale per 12 mesi. Sembra strano che venga 18.000. Vabbè, comunque, sentiamoci, vi aiutiamo. Comunque qua di fatto potete chiedere ciò di cui avete bisogno. Training, webinar. Quando mettete qui, è un progetto ISA, supponiamo di sì. Se non lo è, c'è qualche limitazione. Lo cofinanzierò? Sì, no? Adesso non lo faccio perché non vorrei che partisse automaticamente la richiesta. Però l'output di questo form qua, fino a poco tempo fa, era un PDF che bisognava mandare via mail. La gestione del NOR in queste settimane sta cambiando. Prima era in capo a un'azienda, adesso è passata a un'altra che ha vinto l'appalto. Quindi potrebbero averlo un po' rinnovato. Non lo faccio adesso per questo. Però, volevo stressare questo aspetto. È molto facile fare la richiesta. Non c'è da scrivere un progetto super dettagliato. Addirittura, io ricordo che l'ultima volta che l'ho visto, bisognava scriverlo un progettino. Adesso sembra che sia sparita questa cosa. Meglio, più rapido ancora. Vedete, è molto semplice. Torniamo a WASD. Ha scaricato l'immagine. Quando dico scaricato intendo che l'ha presa dal data provider. Ci ha messo 54 secondi per 1,7 GB. Che è un tempo dignitoso. Ed è questa. Se volete scaricarla da WASD al vostro pc, tasto destro, download. E ve la scarica. La cosa bella sarebbe lavorare direttamente su WASD, così almeno non avete bisogno di scaricare e ricaricare. Se si tratta di sviluppare un'applicazione, possiamo scaricare 1, 2, 10, anche 100 file non è un problema. Quando poi vogliamo offrire il servizio, fa tutta la differenza nel mondo. Oppure per chi fa ricerca, se vuole fare una campagna sperimentale su grandi quantità di dati, è improbabile farlo girare su una macchina locale. Non è impossibile, però è più impegnativo, senza dubbio. Vi faccio vedere un paio di cose ancora. Una è che... Oh, perfetto. Vabbè, sapete che nelle demo live succedono sempre problemi. Allora, una è questa. Per caricare un'applicazione, si va qua, faccio rivedere. New application. Supportiamo Python, 3.10 o 3.8, su due versioni Ubuntu diverse. Stiamo aggiungendo un po' di flessibilità, quindi più versioni di Python e più sistemi operativi diversi. Però lo specifichiamo perché magari uno si aspetta di trovare un certo pacchetto che è su una distribuzione, una certa versione, su un'altra, una versione diversa. Python Conda. IDL, Octave. Ora, tecnicamente supportiamo MATLAB, ma ci sono dei problemi legali con le licenze che non siamo ancora riusciti a sbrogliare. La licenza la vogliamo pagare, ma non è sufficiente. Non siamo ancora riusciti a venire a capo di questa cosa. Abbiamo fatto qualche lavoro in MATLAB. Il più importante di tutti è stato un progetto insieme al JRC, in cui hanno dimostrato la possibilità di utilizzare Sentinel-2 per fare dei composite, per costruire poi il Global Human Settlement Layer. C Sharp e altre cose un po' più strane, OGC Application Package. In realtà supportiamo anche OpenIO. e c'è uno standard per le architetture che si chiama IO-EPCA e WASDE a compliant come client. E poi abbiamo fatto alcuni esperimenti strani. Sono questi standard nuovi dell'ESA, per cui non vorrei farvi un mal di test eccessivo, però abbiamo provato a fare girare applicazioni OpenIO su IO-EPCA, fare delle combinazioni di queste. Si sceglie il linguaggio di programmazione, vi dicevo, si dà un nome, volendo una descrizione breve, un esempio di come ci aspettiamo che sia l'input in formato JSON, dopodiché si fa un file zip contenente il codice di WASDE, si fa il drag and drop qui, si lascia, apply e nel giro di un paio di minuti, di solito meno, l'applicazione è disponibile online. Allora, altre cose, vorrei farvi vedere un'applicazione. Ok, questa è un'applicazione molto semplice, ma vi dà un'idea di che cosa si può costruire facilmente con WASDE. Questa è un'applicazione che crea immagini a partire da dati Sentinel-2. Sentinel-2 sono dati ottici, per chi non è troppo addetto ai lavori, hanno 13 bande, vedono nell'ottico e vedono nell'infrarosso, vedono una banda specifica per gli spruzzi provocati dalle onde del mare, insomma, se vogliamo vederla dobbiamo estrarre, dire come popolare i colori rosso, blu e verde, in maniera che possono essere visualizzati su uno schermo. E qui abbiamo alcune combinazioni classiche, falsi colori, RGB, SWIR. Proviamo a vedere, per esempio, Palma di Mallorca, vado qua perché è una zona tendenzialmente poco nuvolosa. E poi gli diciamo di cercarli ad agosto. Ci sono delle impostazioni avanzate che possiamo mettere, possiamo dirgli il livello di nuvole che siamo disposti ad accettare. Magari l'alziamo un po', lo facciamo diventare un po' più di bocca buona. E qui gli diciamo di cercare indietro, se non la trovi oggi, guarda ieri, guarda il giorno prima, guarda il giorno prima, gli diciamo di andare indietro magari, diciamo, tre settimane, così qualcosa dovremmo trovare. E vorrei metterlo sempre nel workspace che ho aperto prima. Ok, adesso qua l'applicazione è in attesa. E se guardiamo il log, vediamo cosa succede. Cosa fa questa applicazione? Prima di tutto guarda se ci sono dati senti nel 2 che esistono sull'area di interesse. E qui ne ha trovato due, due tile. Poi fa l'importazione di queste immagini senti nel 2. Dopodiché le processa, ne fa il mosaico e lo ritaglia sull'area di interesse. E nel giro di qualche minuto siamo in grado di vedere l'immagine. Vedete? Sta scaricando. I prodotti senti nel 2 sono molto più grossi, no? Di quello che ci serve in questo caso. Ci sono un sacco di bande che non utilizzeremo. Guarderemo soltanto il rosso, il verde e il blu. E va bene, insomma ci vuole qualche minuto. Non so se c'è qualche altra domanda nel frattempo per non stare qua a guardare questa barra di scorrimento che piano piano avanzerà. Ma mi interessa, per carità io sono appassionato quasi, ma... Vi faccio vedere una cosa. Perché vi ho accennato a quell'interfaccia lì. Quello che volevo farvi vedere... Ah, ascolta, non posso accedere. Volevo farvi vedere... Questa è l'interfaccia, ok? E in particolare qui ci sono gli input. Ora, questa è un'applicazione diversa, questa genera... È una mappa, è un'applicazione che conta quante volte un pixel è stato inondato in un'area di interesse. Vi risparmio i dettagli. Però, vedete che sono quasi tutte fatte così. Hanno uno o due date, hanno un selettore geografico dove uno specifica l'area di interesse e poi hanno dei parametri specifici degli algoritmi che possono essere più disparati, no? Allora, torniamo qua. Questo si chiama input files prefix. Questa è una descrizione di quell'interfaccia lì. È facile da leggere? No. Bisogna essere dei programmatori per costruirla? No. E questa è la cosa interessante. Con relativamente poco sforzo diamo la possibilità agli sviluppatori, che sono bravi a fare gli algoritmi, di aggiungere un'interfaccina intorno alla loro applicazione per poterla dimostrare. E questo permette sia loro sia noi di parlare con gli utenti finali e dare una dimostrazione pratica dell'uso di un'applicazione. Vedete che ci sono i tab che sono questi che vediamo qua, cioè Basic Parameters, Advanced Parameters, GIS, Diagnostics, Help, History e JSON. History e JSON sono generati automaticamente da WASD. E Help viene generato a partire da un file in cui lo sviluppatore spiega come funzionano, come usare l'applicazione. Quindi può essere bello o brutto a seconda di quello che lo sviluppatore scrive. Queste qui invece, da Basic Parameters a Diagnostics, le dovremo trovare. Vediamo. Basic Parameters. Vedete, c'è una collezione di tab. Advanced Parameters. GIS. E Diagnostics. Tanto così come giochino. Anziché Basic Parameters, lo chiamiamo Basic Inputs. Vediamo. Si chiama Basic Parameters. Apply. L'ho aggiornato. Torniamo di là. Torniamo di qua. E Basic Inputs. È una sciocchezza, ok? Però il succo è che è possibile aggiungere dei controlli, per esempio delle map, delle date, senza bisogno di essere un programmatore, ma scegliendo da questo, da questa collezione qua, il tipo di controllo che vogliamo aggiungere. E organizzando questi controlli in tab. Il tab Basic Inputs, il tab Advanced Parameters, eccetera. E li possiamo chiamare come vogliamo. Mi fermo qua. Vediamo se l'applicazione ha terminato. Sì! E abbiamo il nostro, la nostra immagine RGB. Diamo un'occhiata. Sì. Sì. Tempo di pubblicare la banda. Sì. 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 C'erano un po' di nuvole, però vediamo Palma. Ha la risoluzione della Sentinel 2, quindi 10 metri. Va bene. Io mi fermerai qua, se non ci sono domande. Va bene. Sì. Ora aspettiamo qualche minuto, se qualcuno vuole intervenire. Dopodiché, in ogni caso, tra qualche giorno, sarà disponibile sul nostro canale YouTube il video di questo particolare, diciamo così, Joe Break, un po' un po' differente rispetto agli ultimi. e poi certamente, come anticipato, se c'è l'interesse, possiamo anche programmare una sessione un po' più pratica. Ecco. Vi lascio i miei recapiti. questa è la mia mail. E in particolare, magari per Rocco e per Roberta, se volete contattarmi, ragioniamo delle richieste che mi avete fatto. e vi condivido anche un annuncio, anche se questa è proprio una cosa molto specifica. Fate che c'è una mano alzata di Rocco. Sì. Ok. Dovrebbe poter a breve parlare. Sentite? Sì. Ok. Allora, io praticamente volevo volevo dirle, siccome io lavoro nel settore delle energie rinnovabili, cioè mi occupo di analisi di fattibilità ambientale. Ah, interessante. Sì. Sono già quasi quattro anni. Questa piattaforma mi consente di scaricare qualche dato a me utile per il mio lavoro per quanto riguarda le energie rinnovabili. Cioè nel senso World Cover se c'è qualche altro dato. Non sono un addetto ai lavori, quindi posso provare a fare qualche ipotesi. Credo che ci siano dei dati utili. Credo che allora al momento abbiamo l'ISA World Cover e il Global Human Settlement Layer che potrebbero essere utili. Sono sicuro che esistono altri dataset specifici e possiamo ragionare se sia opportuno o meno utilizzare Wazzy per importarli. cioè tipo prima lei parlava della mappatura degli edifici ma l'avete fatto anche in Italia? O solo in regione? è un'applicazione che funzionerà ovunque nel mondo. Al momento abbiamo un prototipo che non è ancora pubblicato ma lo sarà nei prossimi mesi. Un'altra domanda che non li conosco. Un'altra domanda. All'interno delle mappature voi avete incluso anche l'altezza degli edifici? Ah interessante credo di no in questo progetto ma mi prendono appunto perché ne voglio parlare con i ricercatori che ci lavorano. Perché su OpenStreetMap la maggior parte degli edifici ce ne sono in Italia però la maggior parte degli edifici non hanno tramite le varie quelli che ci sono da OpenStreetMap non hanno l'altezza degli edifici cioè danno solamente il risultato finale cioè il poligono dell'edificio ma l'altezza no però so che nella maggior parte dell'Europa e in tutto il mondo ci sono le altezze degli edifici solo in Italia non è possibile eh la mia impressione sì è vero è vero che se sono in Italia non credo secondo me sono molto eterogenei e e a seconda di dove guardiamo nel mondo ci sono più o meno dati il problema di OpenStreetMap o uno dei problemi di OpenStreetMap o di altre mappe così è che l'edificazione cambia e non è detto che queste mappe vengano aggiornate con la frequenza necessaria che è il motivo per cui è utile per lo meno per alcuni tipi di applicazione monitorare da satellite quello che succede che sia possibile stare all'altezza credo di sì che sia facile farlo credo di no e però ho bisogno di documentarmi so che esistono anche io ho visto alcune applicazioni in cui eh ho visto diverse applicazioni una in Libano sulla mappatura degli edifici con immagini commerciali ad altissima risoluzione e modelli di intelligenza artificiale e hanno fatto intanto questa mappatura per aggiornare il catastro e poi hanno fatto due applicazioni una è per stimare il potenziale fotovoltaico che potrebbe essere installato e l'altra è per trovare dei tetti piatti dove posizionare delle cisterne per l'acqua per combattere i periodi di siccità per insomma affrontare il periodo di siccità eh questo questo mi scusi se la interrompo questo si può fare con eh ovviamente con ArcGIS però se non si ha l'altezza effettiva dell'edificio il potenziale elettrico del fotovoltaico non si può calcolare mi viene da supporre che allora forse l'avevano l'altezza o l'hanno estratta eh sì o l'hanno estratta però c'è una tool di ArcGIS che permette tramite l'altezza e la e la pendenza del tetto dell'esposizione calcolare direttamente il potenziale elettrico installabile su quel tipo di di tetto o di falda interessante sì grazie mi piace un'esperienza reciproca ok va bene ok se non ci sono altre domande ci salutiamo e grazie per questo gebraic è durato un po' più del solito quindi vuol dire che è stato molto apprezzato ed è stato molto interessante grazie però non vedo non vedo il suo recapito telefonico in chat non l'ho messo la mail la vede no allora tutti i link che vi ho messo ah chat with your co-organizers ah dove è che posso scrivere francesca q&a dove hai scritto prima no allora questa è la mia mail vi arriva e c'era grazie manuele sì questo sì però il numero di cellulare no non l'ho messo il numero di cellulare però alla mail rispondo e questo è il sito di wasdi e questo è il sito del nord dove chiedere finanziamenti per chi avesse un progetto un po' più un po' più lungo direi questi dai ok buona giornata grazie anche a voi buona giornata a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti